È tranquillo? Sì, tanto... ormai... Allora, iniziamo dalla Cina antica. Lei ha studiato la civiltà cinese. La Cina ha un territorio immenso. Quante volte è l'Italia rispetto all'Italia? L'abbiamo fatto. L'abbiamo... Non l'abbiamo seguita. 30 volte. Sì, 30 volte. Dovebbe essere 30 volte. Perfetto, 30 volte l'Italia. Perfetto. Ma sono andato a occhio così, eh? Perfetto. E più grande la Russia o la Cina? Credo la Russia. Crede bene. La Cina ha più di 50.000 fiumi. Stia tranquillo, non vogliamo saperli tutti. Ma sa dirmi i tre più importanti? Giallo. Giallo, giallo. Fiume giallo? Esatto. Giallo il... Merde? Sono complementare. Non lo sa. Non mi può neanche suggerire. Allora, fiume giallo abbiamo detto. Mekong? E in Cina? No. No? Mekoyong? E il fiume... È un pronuncio a quello. Fiume azzurro? Fiume azzurro. E il fiume rosso? E il fiume delle... Un po' più difficile. Delle robine. Delle perle. No. E il fiume... E il fiume... E il fiume... E il fiume... Grazie a tutti